Altre parole arrivano però dal basket italiano, la nuova Olimpia sta muovendo i primi passi in prestagione per preparare il nuovo assalto all'Eurolega. Parla il capitano dei milanesi, Gentile. Sappiamo che la stagione di Eurolega è molto dura e molto incerta. Ci sono tante squadre che partono per vincere, magari escono al primo girone, ci sono tante squadre che partono con meno ambizioni e arrivano fino in fondo. Sappiamo che tutto può succedere, dobbiamo sfruttare questo momento di prestagione per prepararci al meglio, pur sapendo che abbiamo voglia di fare bene e abbiamo degli obiettivi importanti anche in Eurolega. Ci sono tanti giocatori con voglia di fare bene, sono tanti giocatori giovani, tanti giocatori motivati e soprattutto vedo che chi è rimasto dall'anno passato ha voglia di ripetere quello che è stato l'anno scorso, che è stato comunque qualcosa di speciale, quindi sicuramente penso che ci siano tutti gli ingredienti per fare bene. Penso che la nostra arma principale deve essere la stessa dell'anno scorso, ovvero restare umili e partire dal presupposto che comunque nessuno ci regalerà niente, sia in Italia sia in Europa. Quindi dobbiamo conquistarci tutto e sicuramente non sarà facile sia ripetersi in Italia che ripetere la buona stagione in Europa. e quindi come ho detto prima dobbiamo veramente sfruttare al massimo questo tempo per prepararci bene e per essere pronti.